Siamo con Turuzzo Miragliott, tra gli organizzatori di questo mercatino di Natale, già la seconda edizione, l'anno scorso è stata fatta in un'altra location, quest'anno si è scelto la Villa Mazzini. Allora, come va? È la prima serata? Diciamo che come prima serata non ci possiamo allontare, è andata benino, anzi bene, diciamo bene, e abbiamo scelto questa location che è contemporaneamente nel paese, però un pochino più riparata, e diciamo abbiamo avuto la presenza di molti obbisti, e come vedi ora se facciamo un giro te ne accorgi quante belle cose che portiamo in esposizione, diciamo. Ecco, la cosa importante di questo mercatino è proprio quella, che non sono diciamo commercianti, chiamiamoli tra virgolette, usuali, ma sono persone che fanno oggetti di artigianato per hobby, per piacere, per arte, per passione. Fanno, diciamo, questi oggetti per passione, per hobby, e ci mettono l'anima, tu te ne accorgi, nei prodotti che fanno, quanta accuratezza, quanto ingegno che c'è, veramente, è veramente una cosa bella. E sono di gioiosa, ci sono, ospitiamo anche persone di fuori? No, abbiamo, diciamo, un mix di gioiosane e di persone che vengono da fuori, però sempre, diciamo, un interland vicino, non andiamo molto lontano. Ricordiamo quando siete aperti? Allora, noi apriamo da oggi, facciamo, diciamo, i fine settimana, i weekend, venerdì, sabato e domenica, 6, 7 e 8 di questa settimana, 13, 14 e 15 della prossima settimana e poi 19, 20, 21 e 22. Buon Natale! E quindi invitiamo tutti a venire a visitare questo mercato? Certo, la cosa importante è di venire a visitarlo, perché ne vale la pena, ci sono degli oggetti veramente belli, vale la pena portarsene a casa. Tra le altre cose, tante idee, anche per fare dei regalini natalizi. Certo, certo, la cosa importante è questa, diciamo, con poco tu puoi avere delle belle cose. Iniziamo col primo espositore di questo mercatino natalizio di Giosamarea, lei è il signor? Melcarn Giuseppe di Milazzo. Espone tanti bellissimi fiori, vediamo tante idee anche per regali natalizi. Quali sono i fiori che, diciamo, o le piantine più in voca quest'anno, più di moda per fare regali? Ma in genere le piante grasse sono sempre bellissime, tutte le piante grasse sono bellissime. Abbiamo degli articoli che facciamo noi con le nostre mani, delle composizioni sia in terracotta, sia in vasetto in plastica. Abbiamo tantissime piante belle. Come potete vedere, le nostre piante sono piante mediterranee, belle, sia da vedere, sia da crescere. È una pianta che dà tutto, l'anima proprio, l'anima del Mediterraneo. E che si adatta al nostro clima. E si adatta tantissimo al nostro clima perché abbiamo un clima bellissimo in Sicilia che ci invitano tutti. Sappiamo anche che queste piante hanno dei benefici sulla salute, no? Certo, tantissimi benefici sulla salute perché massimamente per i giovani messi vicino al computer, si sa, la pianta grassa attira tutte le onde magnetiche del computer. E cresce meglio perché automaticamente quelle onde che manda il computer, la pianta li assorbe tipo una spugna che gli dà una crescita più bella alla pianta e tanta salute a quello che c'è dietro il computer. Sabrina invece ci presenta le sue opere che sono dei saponi. Saponi, profumo a biancheria, accessori per la casa in tessuto, in legno, un po' tutto. Tutto fatto artigianalmente? Tutto sì, sì, artigianalmente. Splicaci un po' ad esempio come fai i saponi, quali sono gli aromi che utilizzi. E' proprio una mia passione perché utilizzo diversi tipi di olio, oleoliti fatti da me con la calendula, rosmarino, tutte le erbe diciamo che troviamo in zona, farina di carrubbe, insomma diciamo che sperimento un pochino di… Artigianali, biologici, quindi naturali? Sì, alcune cose le coltivo addirittura io, biologici, artigianali, naturali al 100%. Mario Cerauolo non ha bisogno di presentazione per i gioiosani, è un artista del ferro battuto oramai conosciuto. Allora, spiegaci un po' che cosa… quasi, quasi. Spiegaci un po' che cosa realizzi con il ferro battuto. Beh, realizzo un po' di tutto, tutto in ferro, dai fiori a farfalle, tutto addobbe natalizi, qualcosa di particolare che non si può nominare, che però va a ruba, se lo vuole. Oggettistiche varie. Oggettistiche varie, sì. Senti, una curiosità, ma quanto tempo ci metti in media a realizzare ad esempio un fiore, una stella di Natale? Tirando le somme ci vorranno almeno un tre ore per farlo, diciamo. Ed è tutto fatto a mano, non usi nessun tipo di macchinario, di automazione? No, no, nessun macchinario perché non ne posso avere, quindi tutto con le mani. Mariella Di Miceli, le creazioni artistiche, quindi le stiamo ammirando, sono bellissime. Allora, parlaci un po' di queste tue creazioni. Ma diciamo che io faccio della bijou con materiale di recupero, quindi non compro quasi niente. Quindi assemblo tutto quello che riciclo, quindi la plastica, le cerniere, i bottoni, la stoffa. Cioè è tutto materiale proprio di recupero. Poi io con la mia fianza sia, insomma e con il lavoro che è lunghissimo, li metto insieme e vengono fuori la mia bijou. Facci vedere qualcosa di particolare, spiegaci come viene realizzato. Non so, ti posso far vedere questa, questa viene realizzata con delle cerniere che vengono avvolte in delle pietre. Sono tutte cucite a mano perché non uso colle di nessun genere. Quindi praticamente sono tutti prodotti anallergici perché anche nelle chiusure o nelle catene che uso, li uso tutte free nickel senza problemi di allergie. La stessa cosa vale per i bottoni o per questi. Questo qua per esempio, questo è fatto con la plastica di bottiglie dietro e poi viene rivestito da un tessuto che mi è stato donato dal mio amico tapeziere. Quindi io faccio anche questo riciclo che è quello di girare. I miei più cari amici mi mettono da parte le cose più belle, io li prendo e poi ne faccio bijou. Irene invece ha un hobby molto particolare, ce lo racconta lei, è di patti e che cosa lavori tu? La plastica, la plastica pet. Quelle delle bottiglie per intenderci. E che cosa fai con le bottiglie, le ricicli in che modo? Le taglio con le forme che voglio e poi la modello col col calore, la coloro, aggiungo perline. E diventano che cosa queste bottiglie? Dei bijou, collane, anelli, gli orecchini, poi aggiungo perline. Insomma, un po' di così. Dicevo prima un modo anche per rispettare l'ambiente. Infatti, sì, riciclo, riciclo creativo. Il tempo che impieghi in media per fare un oggetto di questo genere, non so, io vedo qua questo bel fiore. Questo qua è semplice perché alla fine l'ho solo modellato e poi un po' di colla con i glitter, questo qua è semplicissimo. Francesca invece lavora il fimo, esattamente, spiega un po' che cos'è quest'arte, in che cosa consiste. Praticamente è una pasta che si modella e si cuoce al forno e poi si può anche dipingere un po' di tutto. Vediamo qualcosa delle tue creazioni, spiegaci un po'. Sì, queste di esempio sono degli orecchini con degli charme inseriti dentro, sempre fatti a forno e cotti sempre a forno. Delle collanine, queste di esempio sono di fantasia dei bambini, tipo i cartoni animati degli anni Ottanta, sempre fatti in fimo, con metal wire e la fettuccia. E' da tanto tempo che ti occupi di quest'arte? No, da un anno circa, tanto per passione, così per hobby. Bravissima, complimenti. Scopriamo un'altra hobbysta gioiosana, Patrizia Giaimo, che invece fa che cosa? Cuscini, però a forma di fiore, sia da una parte che dall'altra. Si gira con foglie che si staccano e si possono mettere in qualsiasi tipo di posizione, abbinabile a tutti i divani, letto, in qualsiasi circostanza. Come li realizzi questi cuscini? Agua e filo, stoffa, tanta pazienza e tempo. Come è nata questa passione? Scusa, una... Eh, diciamo che ho pensato, basta con i soliti cuscini, vorrei qualcosa di diverso e così, pensando, pensando, è arrivata l'idea. Un bel modo per avvivare, un bel salotto, un bel divano, sì, infatti adorna tantissimo, tantissimo. E i materiali li scegli tu, naturalmente, o si possono... Sì, li scelgo io, preferisco sempre dei tessuti abbastanza pregiati, o perlomeno, ecco, di un certo tipo, velluto, o d'arredamento, anche il raso che rende, ma soprattutto per le camerette, per i bambini, ecco, un po' per tutti i generi e per tutti i prezzi, ovviamente, per fare contenti un po' tutti. E naturalmente, essendo artigianali, essendo fatti a mano, si può anche, diciamo, personalizzare il cuscino. Certo, certo, anche in base alle richieste, io realizzo, il bello è questo anche. Simonetta Barberi, invece, è un amante del... Del patchwork, praticamente faccio sfere natalizie di patchwork, che è una tecnica nordica, uso praticamente le vere stoffe natalizie, stoffe americane, praticamente faccio queste palline qui, varie tecniche, c'è questa qui a ciuffetto, questa qui a intaglio, varie misure, e inoltre mi occupo anche di riciclo creativo, dove uso varie tecniche, anche lì, plastica, cera, vetro, giocattoli per bambini, cannucce, qualsiasi tipo di cosa, e mi piace reinventare un po' tutto e nulla. Cerco di prendere un po' spunto da tutte le cose che vedo in giro. Quindi un lavoro certosino, mi sembra, quello che fai tu, c'è molto di precisione, di accuratezza? Sì, soprattutto anche molto di pignoleria. Perché sembrano fatti a caso, colori lì messi a caso, invece non c'è niente di... No, perché devono essere tutte stoffe accuratamente messe, assemblate insieme, non a caso il patchwork viene detto proprio così, perché sono assemblate tutte le stoffe proprio tono su tono, infatti tutte le gradazioni devono essere assemblate tutte insieme, quindi tutti i disegni vengono poi, quando vengono messe insieme, si vedono che non sono messe a caso. L'arte di Mattiella Cicero è quella invece di decorare le tegole, allora spiegaci un po' com'è nata questa passione e come, diciamo, si decorano le tegole. Niente, da ragazza ho sempre avuto questa passione del presepe, poi ho incominciato a decorare le tegole, quelle là più grandi, e poi ho fatto il presepe anche sulle tegole, così semplicemente, passandomi un po' il tempo... Diciamo, non sono solo, però vedo motivi natalizi, forse è nato per Natale questa passione, poi si è sviluppata? Sì, poi si è sviluppata anche con le tegole, quelle là praticamente grezze, le prendo grezze, le faccio sia le pitturo e si è li faccio naturali, color... Ecco, solitamente che colori, che materiali si usano per decorare? Colori agrivisi, normali, oppure lasciati proprio naturali, grezzi, che a me piace molto la decola grezza, mi piace di più lavorarla, però anche quelle colorate le faccio volentieri. Stefano Lembo invece ci presenta un oggetto innovativo, una creazione di suo fratello, di Basilio Lembo, che fa legname, spiegaci tu un po' di che cosa si tratta. Allora, mio fratello è un artigiano e praticamente ha fatto una schiaccia olive, che serve per fare le olive schiacciate, diciamo. Si mettono praticamente le olive nella zona praticamente del pianetto e poi vengono schiacciate dalla catapulta, diciamo. E poi vengono praticamente schiacciate e quindi si facilita il lavoro, diciamo, per chi vuole schiacciare le olive. E qua ce ne sono tante persone che fanno questo lavoro nei periodi fra settembre e ottobre e questo potrebbe essere un bel modo per risparmiare un po' di tempo quando si fanno le olive schiacciate. Anche perché invece, praticamente, invece di schiacciarla d'una d'una, là dentro se ne mettono parecchie? Un sei, sette, dipende, anche otto. Stiamo elaborando anche un sistema per fare addirittura anche lo schiaccianoci, le schiacciamandorle, diciamo. È una cosa che la stiamo elaborando. Avete capito che sono artisti del legno loro? Mio fratello, infatti, siamo artigiani, soprattutto mio fratello è un artigiano e comunque queste anche sono altre cosine. Queste invece sono dei portatovaglioli molto carini che si possono utilizzare a tavola e sono piccole cose, diciamo, che possono servire per il fabbisogno, diciamo, familiare e che possono agevolare, diciamo, nelle famiglie l'uso domestico, ecco. Siamo con Carmela invece che viene da? Piraino. Piraino. Qual è il tuo hobby? Che cosa esponi in questo mercatino? Io decoro la stoffa, lavoro con dei colori per stoffa, adatti, lavabili, si possono realizzare tantissime cose, dai centrini ai cuscini, magliette, tende, copriletti, di tutto, diciamo. Quando è nata questa passione e soprattutto si può fare business con queste cose? Io ho fatto gli studi d'arte, quindi ho fatto gli studi d'arte, mi sono laureata all'accademia e quindi la mia è proprio una passione che è nata già da tempo. Trovi riscontro? Piacciano, quindi vengono, diciamo, apprezzati e comprati questi prodotti? Diciamo che non mi lamento, visto i tempi che ci sono, diciamo che chi apprezza le cose fatte a mano, quindi un po' le vecchie arti, c'è il riscontro. Giulia invece mi sa dall'esposizione che fa bijou, è vero? Ma che tipo di bijou sono? Sempre lavori fatti a mano, soprattutto per bambini, magari, che so, gelatini, pupazzini vari, non so, cose che possono piacere ai bimbi un po' colorate, un po' carine, così ne così. Che materiali usi? Io utilizzo per lo più il fimo, che è quello da quella parte lì, fiorellini, e poi ho fatto qualcosa ad uncinetto, qualcosa in feltro, qualcosa in nastro, vedi questi nastri, nastrini, cose semplici, materiali semplici per sicuri, per i bambini, e colorati, molto colorati, mi piace fare così ne così. E poi vabbè, ci potrebbero essere tante altre cose, chiaramente un mercatino natalizio, ecco, per fare qualche pensierino. Quindi quest'arte ha anche altre applicazioni, giusto? Sì, sì, io poi faccio tante cose, faccio aerografia, faccio, che ti posso dire, quadretti in legno, dipingo a olio, disegno, diciamo un po' di tutto, però in base al posto in cui ti trovi, al periodo anche dell'anno, magari, adesso si vuole fare qualche pensierino per spendere poco, così fare un regalino. Mattia, giovanissimo, è di? Sono Gesù Samarea. Allora, qual è la tua passione? Allora, noi, io insieme ad Antonella, abbiamo realizzato questi oggetti in fimo, tutto è incominciato in un pomeriggio, quando abbiamo fatto una piccola ricerca su internet, abbiamo trovato questi lavoretti fatti in fimo. Abbiamo voluto provare e sinceramente devo dire che sono riusciti molto bene, per essere le prime volte ce la siamo cavati. Antonella, quindi tra le tante passioni che hai, da tanti hobby, anche quella del fimo, com'è nata questa passione? Allora, abbiamo, come ha detto Mattia, abbiamo guardato su internet questo fimo, come si lavorava. Allora, in poche parole, è una pasta sintetica che viene lavorata e poi viene infornata a una temperatura molto bassa. E a mano a mano abbiamo iniziato a fare delle orecchine, poi dei portachiavi e delle collanine. A mano a mano comunque che ci prendi la mano, riesci a creare tutto quello che vuoi. Poi, siccome sapevo fare anche dell'uncinetto e qualcosina con i ferri, abbiamo fatto delle spillette con l'uncinetto. Ecco, ma la creazione, cioè come nasce il disegno, ad esempio, dell'orecchino? Il disegno l'abbiamo creato mano a mano che facevamo, che guardavamo questi video e a mano a mano poi ti viene da sola la creazione. Quindi abbiamo fatto delle girella, ad esempio, delle roselline che sono molto semplici da fare. Abbiamo fatto delle mollettine con dei fiocchetti sempre fatti in fimo. Comunque, a poco a poco, poi, lavorandolo, è come... Si acquistano in manualità. Sì, sì. E quindi, a poco a poco, abbiamo iniziato a creare un po' di oggettini. Come prima esperienza, devo dire che ci è riuscita molto bene. Speriamo che riusciamo a venderle e che piacciono, perché non tutti possono piacere questi lavori. Auguri, complimenti. Grazie. Grazie. Enunziatina Casamento, alias Araba Fenice, conosciuta per le sue creazioni con la lana al telaio. Allora, mostraci qualche novità. Allora, sono tutte novità che ho fatto quest'anno con della lana nuova. E allora faccio le sciarpettine così, di vari colori ovviamente, degli scialli, visto sono belli morbidi, di colori tutti attuali e poi tutto quel genere lì. Poi faccio anche altre cose che qua non ho portato. Ecco, magari ricordiamolo, perché magari chi fosse interessato, innanzitutto diciamo... Lavoro al telaio, lavoro al telaio antico, tradizionale, e lavoro in cotone, la lana, le fettucce di cotone, realigio i tappeti, le borse, degli arazzi, le sciarpe. E oltre in questi mercatini diciamo particolari, artigianali e così, ti possono trovare dove? Attualmente mi trovano a Cefalù. Prima mi trovavano anche a Gioiosa. Adesso o nei mercatini così, oppure a Cefalù diciamo otto mesi l'anno. Il signor Alfio di... San Piero Patti, sì. Allora, qual è il suo hobby? Io intravedo qua dei cestini bellissimi, quindi capisco che è una delle arti più antiche. Ecco, infatti due antichissime arti ho voluto abbinare ai miei hobby. Quindi, quello che è l'intreccio dei vimini, perché i cestini sono dei vimini, e la pirografia. Addirittura la pirografia risale ai Dei Baccalici, insomma, antichissime due arti. La pirografia sarebbe la scrittura con il fuoco, giusto? Come funziona? Perfetto, funziona tramite, tipo si potrebbe spiegare in parole povere, come un saldatore, come un saldatore che, con delle punte infocate, va a intaccare il legno e quindi lascia delle tracce di bruciato. E così, insomma, in parole povere spiegata la pirografia. Questi quadri quindi sono fatti con la pirografia, con la tecnica della pirografia. È tutto fatto naturalmente a mano, artigianale? Tutto fatto rigorosamente, fatto a mano artigianale, partendo dalle basi, dai cesti, ritagliando il legno, bucandolo con il trapano, poi disegnarlo con il pirografo e poi intrecciarlo. Quindi, due elementi ci stanno in questi piccoli oggetti, che è il legno e il fuoco. Noemi, viene da? San Piero Patti Vedo tanti oggetti che possono essere utili per fare tanti regalini natalizi, siamo in questo periodo. Tu che cosa lavori? Qual è la tua passione? Allora, io soprattutto il cucito, anche perché in linea con gli studi che ho frequentato, perché sono diplomata in moda e costume all'istizio d'arte, realizzo dei portachiavi tutto cucito a mano e anche cerchietti, portacellulare, portamonete, perfino scatole che sono interamente realizzate, cucite a mano, una struttura in plastica e un rivestimento in panno. Io vedo anche dei centrini, questi sono sempre arte tua, diciamo, come sono fatti? Sono realizzati con la tecnica dell'uncinetto. Allora, qui abbiamo questi angeli che sono realizzati con la tecnica dell'uncinetto e in seguito inamidati, utilizzando una mistura di acqua e colla, messi in forma, man mano che si asciugano, modellati con le mani. Poi vedo anche tanti altri oggettini che sono sempre in panno, sempre fatti a mano da te, che possono servire come decorazioni per l'alberello. Sono realizzati in feltro e sono appunto pensate come decorazioni per l'albero di Natale.